Con l'arrivo della primavera sono entrate in vigore le tanto attese migliorie per quanto riguarda la fiera dell'antiquariato. L'edizione di aprile, complici le temperature primaverili, ha preso avvio con sprint dopo l'ultima edizione sottotono tra strade affollate ed il tanto atteso trasferimento per ben 16 espositori che hanno traslocato in nuove postazioni dislocate in tutto il centro storico. L'edizione per ora è nata molto bene, abbiamo quasi 310 espositori di cui 95 è spuntistica, è quasi il record. Vedo tanti turisti, vedo anche gente straniera, quindi siamo soddisfatti. La nostra essendo una fiera all'aperto il tempo è cruciale, oggi è abbastanza buono, so che domani sarà meglio, quindi inizia bene la stagione primaverile e estiva. Delle piccole novità con delle migliorie per quanto riguarda le postazioni. Sono stati circa 15 espositori che hanno cambiato posizione, quindi da un lato abbiamo coperto alcuni buchi, dall'altro abbiamo scoperto altri, quindi questo è normale. Nel 2018 si dovrà rivedere un po' tutto il posizionamento dei banchi, quindi per ora andiamo avanti con le migliorie. Ho tante idee, grandi rivoluzioni no, perché poi alla fine la fiera è questa, però credo che con tante piccole cose riusciamo a migliorarla.